Un corso diviso in parte teorica e pratica che ha permesso a giovani inoccupati e tutti coloro che desideravano entrare nel mondo del lavoro dell'assistenza fiscale di ottenere le giuste competenze e diventare così un vero professionista di questo settore. Dopo 40 ore di formazione si è concluso il corso gratuito per operatore CAF promosso da Federaziende e nella sede della Camera di Commercio di Lecce sono stati consegnati gli attestati a coloro che hanno superato l'esame finale. Quello che mi sento di dire ai ragazzi è che mi auguro che mettano in pratica presto quello che hanno imparato perché il mestiere di operatore CAF è un mestiere bellissimo, è impegnativo, è difficile, bisogna avere costanza, pazienza perché non è facile dedicare le proprie giornate tutti i giorni alle persone che hanno difficoltà. Però è un lavoro che ci porta tante soddisfazioni perché poi diventiamo punto di riferimento, diventiamo un punto di riferimento importante per loro, li aiutiamo, entriamo nelle loro famiglie, nelle loro dinamiche e quindi questa è la nostra grande soddisfazione. Nella parte teorica i partecipanti hanno potuto comprendere i concetti fondamentali relativi alla fiscalità e alle procedure di compilazione dei documenti, un connubio che ha permesso quindi di acquisire importanti competenze operative. Siamo stati ospitati dall'Università del Salento, in modo particolare dal Dipartimento di Scienze Giuridiche, corso che si è tenuto appunto all'interno del complesso R2 nell'Aula Magna, perché si è avuto proprio la necessità di uno spazio grande per ospitare 205 corsisti, 146 di quali hanno superato l'esame finale. La sfida che oggi dalla casa delle imprese come federaziende lanciamo è proprio quello di un rapporto costante, proficuo e continuativo finalmente tra l'Università e il mondo delle imprese.